I rincari energetici di bollette, benzina e gasolio si scaricano sui prezzi del carrello della spesa con aumenti tendenziali che riguardano anche farina e pasta, con aumenti che vanno dal 9% per la farina al 12% per la pasta. Sono i dati della Coldiretti Puglia che segnala il razionamento di alcuni prodotti sui banchi di vendita come l'olio di semi di girasole e soia per la mancanza di rifornimenti. In Puglia oltre l'85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada e l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa dei consumatori con il rischio di alimentare psicosi, accaparamenti e speculazioni. I dati dicono che ultimamente è aumentato anche il costo della farina, come incide sul vostro lavoro? Senti, incide che l'aumento della farina aumentano anche i prodotti, giustamente, però indacca anche gli stipendi degli operai, il gasolio dei furgoni che escono i mezzi fuori, i nostri arrivano anche nella provincia, però anche con questo fatto della guerra, l'economia diciamo si è alzata sia gasolio, benzina, è aumentata la farina, anche un caffè che diciamo è arrivato a 1 euro e 20 da 1 euro e questo concida un po' tutto. I stipendi sono quelli che sono e giustamente io adesso ne parlo con la voce del titolare, apposta del titolare, visto che non ci sta attualmente. E niente, questo è tutto. Avete notato i clienti come reagiscono? C'è una flessione nelle entrate oppure le persone tendono comunque ad acquistare per paura di non trovare poi materie prime. Senti, hanno un po' paura perché diciamo aumentando il prodotto, diciamo, come bisogna dire, buttiamo un po' di roba perché giustamente i prezzi sono un pochettino elevati. La pizza diciamo, cioè prima costava un prezzo, poi è arrivato un altro prezzo. Prima stava a 5 euro e adesso è arrivato a 6 euro, però poi il prodotto, diciamo, va mancando, mancando. Oggi quando si spende per un chilo di pane? Senti, siamo arrivati a 2,80 euro, però dalle parti di sopra va anche a 10 euro a chilo il pane. Io ho mia figlia a Vasto e va a 5 euro a chilo.